Musica Femminicidio a Saltara, oggi la convalida dell'arresto per il marito della giovane mamma uccisa a coltellate nella notte fra venerdì e sabato scorsi. Il colonnello Alessandro Corda è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Pesero Rubino, sabato scorso la presentazione alla stampa. Auto a forte velocità e pericoli per ciclisti e pedoni, l'appello dei residenti di via Gentile da Fabriano al comune di Fano e ai cittadini. Non sarà Iliad ad installare una nuova antenna in via Iozzino a Metauriglia, lo rassicura il vice sindaco Manocchi che ha incontrato i rappresentanti della società telefonica. Un'ulteriore opera, sossegno della mobilità sostenibile, va ad aggiungersi a quelle già realizzate dall'amministrazione di Mondolfo. Staglio del Nascolo, sabato mattina per la pista ciclo pedonale Cento Croci-San Gervasio. Croce Rossa italiana, mercoledì a Fano e il 7 ottobre a Lucrezza, la presentazione dei nuovi corsi per aspiranti volontari. Sono 33 gli ospiti di Fano provenienti da Rastat nell'ambito del progetto Fressa Nera Mare Blu che si rinnova da 25 anni nel segno dell'inclusione. Lunedì 9 settembre, buonasera e benvenuti a Occhio alla notizia in apertura del nostro telegiornale. Il femminicidio è avvenuto a Saltara, oggi è stato convalidato l'arresto di Ezio di Levrano, accusato di aver ucciso a coltellate sua moglie davanti ai tre figli. L'uomo in udienza si è avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Lonigro. È in carcere a Pesaro Ezio di Levrano, accusato di omicidio volontario aggravato della moglie Anna Cristina Duarte Correia, la donna 38enne di origini brasiliane, madre di tre figli, uccisa a coltellate nella notte tra venerdì e sabato. L'uomo 54enne di Brindisi oggi era presente all'udienza di convalida dell'arresto. Di Levrano è arrivato intorno alle 11 al tribunale di Pesaro e davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere. È provato e preoccupato per i suoi figli, ha detto l'avvocato assegnato d'ufficio Gaia Vergari. Moglie e marito, spiega l'avvocato, non erano in buoni rapporti. Nei prossimi mesi sarà l'avvocato Salvatore Asole ad occuparsi della difesa del 54enne pugliese. I rapporti non erano buoni, c'erano delle tensioni familiari, gelosie, cose di questo tipo, credo. Ingiustificato sicuramente. Quindi non problemi economici ma gelosia più che altro? Credo. Sicuramente la famiglia non ha una condizione economica buona, però non ho purato. Ecco, lui si è avvalso oggi la facoltà di non rispondere, quindi potrei dirvi tutto e niente, ecco. Nel pomeriggio di oggi è stato convalidato l'arresto di Levrano dopo il femminicidio avvenuto alle 2 di notte. Aveva cercato di nascondersi in un campo non distante dall'abitazione. Nulla da fare per la giovane mamma che a causa delle gravi ferite all'addome è deceduta all'ospedale Torrette di Ancona. Anna Cristina Duarte Correia, appena una settimana fa, aveva abbandonato il tetto coniugale. Voleva separarsi dal marito ma non denunciarlo per maltrattamenti. No, ma di solito urlavano un po', urlavano, sì, aiuto, va bene, queste cose. E noi siamo qua, adesso è caldo, si sente. Al momento dell'omicidio nell'abitazione a Saltara erano presenti anche i figli della coppia, due maschi e una femmina, che sono stati prima ospitati dai nonni paterni e poi affidati ad una struttura d'accoglienza. Certo, mi ha chiesto dei figli, sì, certo, certo, sono la sua preoccupazione principale. Sotto shock, la comunità del piccolo borgo di Saltara e il comune di Colli al Metau ha organizzato una fiaccolata di solidarietà per giovedì sera alle ore 20. E' deceduto all'età di 48 anni Fausto Capodagli, uno dei fondatori dell'associazione Queidla dal fiume a Tombaccia di Fanno. L'uomo è stato trovato morto in casa questa mattina dal padre e dal fratello. Si ipotizza un malore ma si attendono gli esiti degli accertamenti sulla salma. E' ancora da stabilire la data dei funerali. Il colonnello Alessandro Corda è il nuovo comandante provinciale di Peserurbino dei Carabinieri. In passato ha operato a Nuoro, Genova, Brescia e Vibo, Valencia, prima di arrivare a Pesero. Sentiamo le sue dichiarazioni. Mi sono fatto l'idea di un territorio molto vivo e sicuramente accogliente. Ovviamente sono stati giorni molto impegnativi perché devo prendere contatto col territorio, quindi devo lavorare molto di più per inserirmi comunque in dinamiche che ancora non conosco. Tuttavia per la prima impressione, come ho già detto prima, è sicuramente molto positiva. Quindi un territorio veramente bello, dinamico, anche ricco. Sicuramente avrà delle sue problematiche che cercheremo di affrontare e risolvere nel migliore dei modi. La mia carriera inizia nel 1997 con l'accesso all'Accademia Militare, quindi i corsi regolari dell'Accademia Militare. Quindi i primi due anni a Modena e poi proseguono con la scuola di applicazione a Roma. Successivamente da tenente sono stato destinato al reggimento Carabinieri di Laives, dove ho potuto comunque partecipare ad alcune missioni all'estero. Successivamente sono entrato nella linea territoriale, quindi comandando la compagnia prima di Bono, in provincia di Sassari e poi di Genova San Pierdarena. Da qui sono stato destinato al comando provinciale di Brescia, dove ho retto il nucleo investigativo per cinque anni e successivamente al reparto operativo di Vibo Valencia, da cui provengo. Atti vandalici nel campetto sportivo del vallato Afano. I gnoti hanno rotto i lucchetti dei cancelli, tagliato la recinzione, strappato le reti delle porte da calcio e uno striscione all'interno del campo. Assistiamo impotenti a questi atti, ci ha scritto il telespettatore, che dopo aver fatto l'amara scoperta questa mattina, chiede a chi di dovere più controlli, in particolare nelle ore notturne. E le vostre segnalazioni ci portano anche in via gentile da Fabriano, dove alcuni residenti e utenti della strada hanno evidenziato diversi problemi relativi alla poca sicurezza e all'alta velocità e altri accorgimenti per migliorare la situazione in tutta la zona. Sentiamo i particolari nel servizio che è stato curato da Filippo Pucci. Sono diverse le segnalazioni che Fano TV raccoglie tramite il numero di redazione di Occhio alla Notizia 338 4968 250. In questo servizio alcuni residenti di via gentile da Fabriano a Fano ci hanno contattato per evidenziare la pericolosità di questa strada tra alta velocità e poca sicurezza, ad iniziare dalla discesa, per chi proviene da Viale Battisti, dove a volte non viene dato lo stop da chi proviene dal parcheggio del Van Vitelli. Più volte abbiamo fatto segnalazione anche insieme agli altri cittadini, alla Polizia Municipale, che ringrazio che hanno mandato a volte dei controlli con i sensori laser per l'autovelox, però non è abbastanza, perché qua, specialmente il pomeriggio, la sera, c'è gente che sfreccia 70-80 all'ora, ma minimo 50, quindi l'incolumilità dei nostri nipoti e figli è messa proprio in pericolo. Noi ciclisti, pedoni, anche quando vuoi semplicemente buttare magari la raccolta differenziata, eccetera. Alcune delle soluzioni che i residenti propongono sono quelle di evidenziare meglio il limite dei 30 km orari su tutto il tratto, applicando segnaletica verticale, insegne luminose o anche dossi artificiali. E manca la segnaletica stradale, proprio al limite del scarso, insufficiente, inesistente, perché vi è, come vedete, un cartello 30 all'ora lì, perché arrivano gli utenti della strada che non hanno proprio la segnalazione che questa è una strada importantissima, però è a 30 all'ora. Io faccio appunto un appello anche ai cittadini fanesi di rispettare anche il doppio senso, perché molte volte c'è qualcuno che ha invaso la corsia centrale dicendo tu qua non passi perché è senso unico, quindi ogni volta litigi, perché qui c'è una segnaletica stradale divisa, una linea di mezzeria, che indica, e poi c'è anche un cartello che è un doppio senso. Però purtroppo questa ancora non viene capito, insomma questa è una strada molto importante perché quando poi riprenderanno le attività a pieno regime a settembre, questa è l'alternativa via Legramci, quindi chi va a Pesaro, eccetera, o a scuola, passa da qui. Ma i problemi non finiscono qui perché alcuni abitanti segnalano l'incuria delle mura malatestiane, ormai rovinate dall'invasione dell'edera e dall'erba infestante, covo di ratti e bisce, e poi la mancanza di cassonetti per lo sfalcio delle potature e infine la richiesta di installare delle barriere antirumore dovute al passaggio dei treni merci molto rumorosi. La Fidoria dello Stato voleva darci qualche anno fa, ma purtroppo l'ultima amministrazione sembra che l'abbia cancellata. Noi vorremmo che ci fossero delle barriere antirumore come ci sono a Senigallia, a sud della stazione di Senigallia. Un'altra cosa importante è che non si riesce a sistemare il problema decennale delle acque meteoriche che scendono giù dal centro storico e che vengono qui in via Gentile a Fabriano rischiando, come già successo diverse volte, che ci allaghiamo i garage. Poi la famosa scalinata che ci porta in città, che sono più di 80 anni che è lì e che ha bisogno di manutenzione, la balaustra non è più a norma. Infine altri cittadini lamentano il degrado del parcheggio provvisorio estivo e la maleducazione di alcuni automobilisti che parcheggiano nelle aree di sosta sul lato sinistro di via Gentile da Fabriano occupando con una sola auto il posto per due o più vetture, come dimostrano queste foto arrivate alla nostra redazione. Si chiede gentilmente alla nuova amministrazione di provvedere a risolvere questi problemi decennali in via Gentile a Fabriano. Si tende protesta questa mattina a Palazzo e Lopardi a Dancona per chiedere alla regione di istituire un vincolo ambientale per fermare il progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi a riceci nel comune di Petriano. L'assessore regionale all'ambiente Stefano Aguzzi, dietro il suo invito, ha incontrato una delegazione dei comitati. Aguzzi ha ribadito la propria contrarietà alla discarica e ha evidenziato che la mancata autorizzazione da parte della provincia di Pesero Urbino alla nuova discarica è dovuta esclusivamente ai pareri contrari emessi dagli uffici regionali. Mentre sul vincolo paesaggistico i lavori della Commissione stanno proseguendo con lo svolgimento di uno studio in collaborazione con la provincia e la soprintendenza, la quale ha segnalato come meritevole un'area più ampia rispetto a quella inizialmente indagata che interessa anche il territorio dei comuni limitrofi. Primo giorno di rientro per le scuole dell'infanzia del comune di Fano. Il sindaco Luca Serfilippi insieme all'assessore all'istruzione Loredana Magghermino e al dirigente Pucci alle 8 di questa mattina hanno portato il proprio saluto ai bambini e al personale scolastico. È un giorno speciale, ha commentato il primo cittadino, perché segna un momento di grande entusiasmo e speranza. Le scuole dell'infanzia sono il cuore del percorso educativo dei nostri bambini e noi vogliamo poter garantire loro un ambiente sicuro e accogliente in cui possano scoprire il mondo. Sottolineo, ha aggiunto il sindaco, che nessuna famiglia è rimasta esclusa dalle liste visto che siamo riusciti ad accogliere tutte le richieste che ci sono pervenute. L'assessore Magghermino è invece ricordato come siano 533 le bambine e i bambini che frequentano le sette scuole dell'infanzia. Da oggi è attivo anche il servizio di rifezione scolastica con 1968 bambini che pranzano nelle scuole statali e comunali della città. L'11 settembre prenderà il via il servizio di scuolabus e le famiglie avranno tempo fino al 13 settembre per completare le iscrizioni. In seguito alle proteste dei residenti di Metauriglia preoccupati per le voci dell'installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile a ridosso delle case è intervenuto il vice sindaco di Fanno, Loretta Manocchi, per fare chiarezza. Al momento, infatti, non ci sarebbero richieste da parte delle compagnie telefoniche. Preoccupati i residenti di Metauriglia per l'ipotetica posizione di un'antenna in via Iozzino. Vice sindaco Manocchi, come stanno veramente le cose? Innanzitutto il piano antenne è stato approvato, quello quindi in vigore vigente, il 30 marzo del 2024. Il quale tiene conto praticamente di tutte le stanze che sono state avanzate dalle compagnie telefoniche in ragione del loro piano di sviluppo riferibili all'anno precedente. Quindi è necessario, al fine di allineare le richieste, chiaramente con l'attualità del piano stesso, riadottare un piano, oggi, che tenga conto delle stanze presentate al 30 marzo del 2024. Questo lo dico e ci tengo a sottolinearlo perché nell'area interessata di via Iozzino, nel piano approvato quindi dalla precedente amministrazione, esistono due buffer, cioè due aree di interesse da parte di operatori telefonici. Che cosa significa questo? Che quando tu indichi in un piano e quindi viene recepito due aree di interesse, lì potrebbero sorgere delle richieste, delle istanze che le compagnie telefoniche possono avanzare per la posizione appunto di un'antenna. Noi abbiamo incontrato qualche giorno fa insieme al sindaco Iliad, quindi una compagnia telefonica la quale non ha avanzato nessuna richiesta in quell'area, pertanto per esclusione, questo incontro mi preme a sottolineare che verrà fatto anche con le altre compagnie telefoniche, dei confronti necessari e indispensabili al fine di comprendere deviso quelli che sono le loro legittime tra virgolette richieste ma contemplarle con gli interessi e la salute dei cittadini, quindi da un punto di vista paesaggistico, ambientale e dell'inquinamento elettromagnetico. Soltanto dal confronto ne può scaturire una sinergia per comprendere bene quali sono le richieste e quelle che possono essere le alternative che la stessa amministrazione attraverso siti pubblici può individuare per allontanarsi quanto più possibile dai centri abitati. Perché dico questo? Perché Iliad peraltro ci ha sottolineato che questo incontro che con gran piacere hanno accolto è la prima volta che succede e ci siamo confrontati su altri siti che gli stessi avevano indicato e che sono quasi in fase di approvazione. Per quanto riguarda la zona di Metauriglia, le aree di interesse sono riferibili a compagnie telefoniche che hanno già dei pali antenne, quindi hanno già delle strutture presenti a nord e a sud della via e quindi chiaramente dovremo approfondire se questo interesse è davvero reale. Al momento non ci sono richieste, quindi non sono presenti negli uffici del comune istanze su Via Iozzino per la posizione di ulteriori antenne e quindi vogliamo comprendere quelli che sono le ulteriori richieste. In fase di elaborazione un nuovo piano delle antenne e se lo è, viene affidato al consulente che ha realizzato il primo con il quale c'è in ballo un contratto triennale? Sì, esattamente, viene affidato a Polab. Sono due le liste presentate all'ufficio elettorale della provincia di Pesero Urbino in vista delle elezioni che si terranno domenica 29 settembre per il rinnovo del Consiglio provinciale. Si tratta della lista La Casa dei Comuni Provinciali 2024 e della lista La Nuova Provincia più. Le urne resteranno aperte dalle ore 8 alle 20 nella sala Pierangeli a Pesero e nella sottosezione di Urbino allestita nella sede periferica del Collegio Raffaello. Sono 651 gli elettori chiamati al voto a scegliere i 12 componenti dell'assise come previsto dalla legge di riforma delle province saranno i sindaci e i consiglieri comunali del territorio provinciale. Il voto sarà proporzionale al numero di cittadini che il sindaco o il consigliere comunale rappresenta nel comune di appartenenza. Prestigioso incarico per il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, nominato questa mattina consigliere nazionale di Anci in quota regionale. Serfilippi ora è uno dei 21 delegati di Anci Marche che parteciperanno all'assemblea congressuale elettiva il prossimo novembre a Torino. Mi impegnerò a dare il mio contributo, ha dichiarato Serfilippi, affinché ci sia una crescita e uno sviluppo per i comuni della nostra regione accogliendo le istanze del nostro territorio. Stesso incarico anche per il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Sarà per me un onore e una responsabilità, detto portare a Roma i temi che riguardano i nostri comuni. Ringrazio il presidente Fioravanti, la direttrice Francesca Bedeschi e i sindaci della regione che hanno partecipato all'assemblea per la fiducia riposta nella mia persona. E allora rimaniamo nel comune di Mondolfo, dove sabato mattina è stata inaugurata la nuova pista ciclopedonale Centocroci-San Gervasio e sono stati presentati i lavori di riqualificazione dell'Abbazia. C'era per noi Cristiana Guerra. Si estende per una lunghezza di 500 metri ed è sviluppato su sede propria, oltre ad essere dotato di un impianto di illuminazione. Si tratta dell'ultima opera dell'amministrazione comunale di Mondolfo, che dopo l'approvazione del progetto esecutivo, la gara e il successivo affidamento dei lavori, ha inaugurato sabato mattina la pista ciclopedonale parallela alla strada della Val Cesano, che collega Centocroci di Mondolfo a San Gervasio e che permette ai pedoni e ciclisti di spostarsi agevolmente tra i quartieri in totale sicurezza. Presente all'inaugurazione, oltre alle autorità civili, militari e religiose, anche tanti cittadini e ciclisti, che hanno subito inaugurato la pista. Sindaco, quello della mobilità sostenibile è un grande tema portato avanti dall'amministrazione comunale, oggi un grande altro risultato. Sì, andiamo a concludere un percorso importante per tutto il quartiere, per la nostra città, quindi la pista ciclopedonale, che collega appunto il quartiere di Centocroci con San Gervasio e Ponterio e quindi permetterà a tutti i cittadini e i residenti di raggiungere in sicurezza le attività e i servizi presenti. In questi anni siamo intervenuti molto per incentivare la mobilità sostenibile, ma in particolar modo con un nostro piano che è appunto il Biciplan, che ha l'obiettivo di collegare tutti i quartieri della nostra città. Quindi abbiamo collegato negli scorsi anni San Sebastiano con Centocroci, ora abbiamo collegato e abbiamo unito Centocroci con San Gervasio e Ponterio, abbiamo collegato Piano Marina con Marotta Centro, stiamo realizzando grazie alla Regione Marche e con il Comune di Senigallia il ponte ciclopedonale sul Cesano che collega Marotta con Senigallia, continueremo con la ciclovia del Cesano nei prossimi anni che ci permetterà di collegare Ponterio attraverso via Rio Maggiore e via Mengaccio con Molino Vecchio e il quartiere di Molino Vecchio col mare con una ciclabile su sede propria lungo la provinciale. Considerevole l'impegno fidanziario sostenuto dall'amministrazione, comprensivo di progettazione, espropri e lavori, come ha sottolineato il Sindaco. Di questo progetto è di 250 mila euro, fondi sia del bilancio comunale che anche del Ministero dell'Ambiente nel progetto FAMOSE. Con l'occasione è stato illustrato anche il progetto di riqualificazione dell'Abbazia di San Gervasio, un considerevole patrimonio artistico e storico per l'intera collettività. L'Abbazia rappresenta un monumento nazionale ed è uno dei patrimoni artistici e culturali più importanti che abbiamo nel nostro territorio e siamo davvero orgogliosi di aver messo mano come amministrazione comunale rispetto al passato concretamente alla sua valorizzazione e al suo recupero. che ci permette di preservare un patrimonio artistico-culturale ma arricchisce anche l'identità della nostra comunità rendendo questo edificio ancora di più un punto di riferimento per cittadini e turisti. Qual è la spesa dei lavori? Allora, la spesa dei lavori per quanto riguarda i lavori di recupero dell'Abbazia si aggira intorno ai 100.000 euro di cui una parte viene confidenziata dal comune quindi con il bilancio comunale e una parte grazie al bando che abbiamo vinto per i lavori di recupero e messa in sicurezza degli edifici pubblici. Un'altra importante opera a livello culturale e anche turistico? Decisamente sì, era un'opera necessaria che permetterà poi ai turisti e ai cittadini di poter accedere all'Abbazia. Sono lavori che riguardano ovviamente il rifacimento della pavimentazione della parte insomma riguardante la cripta e poi un sistema di drenaggio sia interno che esterno che permetterà ovviamente di mitigare quelle che erano e sono le problematiche di infiltrazione. La Croce Rossa di Fanno ha annunciato l'avvio dei nuovi corsi per aspiranti volontari. La presentazione avverrà mercoledì 11 settembre a Fanno e poi il 7 ottobre a Lucrezia di Cartoceto. Presidente, la Croce Rossa cerca volontari e a breve inizieranno i corsi di formazione. Sono aperti a tutti o è necessario avere delle competenze specifiche? Non sono richieste competenze specifiche consigliamo l'ingresso dai 17 anni a salire fino ad arrivare ai pensionati in mezzo chiaramente ci sono i giovani, gli adulti e appunto come dicevamo i pensionati che magari hanno anche più tempo da dedicare al prossimo. Quando e dove presenterete i nuovi corsi? Presenteremo due corsi uno sulla città di Fanno e l'altro a Lucrezia di Cartoceto entrambi patrocinati dai rispettivi comuni il 11 settembre a Fanno, a Gimarra in via Cena al centro sociale mentre a Lucrezia in via della Repubblica al centro comunale. Poi quando si svolgeranno? Allora sia la presentazione che le lezioni saranno alle ore 21 abbiamo delle date ad esempio quelle su Fanno partiremo esattamente oltre alla data di presentazione dell'11 la lezione vera e propria inizierà martedì 17 poi il 18, il 23 e il 25 sono le lezioni normali domenica in entrambe le circostanze sarà una full immersion dalla mattina fino alla sera dove faremo anche le tecniche di primo soccorso e spiegheremo quindi la parte più voluta perché la prima parte, scusate ancora non l'avevo detto è più una parte storica quindi cos'era la Croce Rossa che cosa ha fatto, cosa fa e quindi è giusto sapere le basi e poi piano piano con questo corso e con altri ci si specializzerà meglio su varie tematiche. Che cosa poi andranno a fare questi volontari? I volontari della Croce Rossa possono svolgere attività nel sociale abbiamo uno sportello psicosociale apriremo un'unità di strada abbiamo uno sportello per viveri faremo anche attività in ambulanza l'ambulanza come trasporto infermi quindi trasporto dove le persone hanno bisogno di essere portate in visita all'ospedale oppure trasporti in emergenza quindi da ospedale all'ospedale o più avanti anche proprio come 118 quindi in supporto alla sala operativa 112 Reclutate anche altre figure? Sì, oltre ai volontari semplici cioè nelle attività che ogni volontario può svolgere quindi che può non avere nessuna mansione particolare possono comunque entrare fabbri, artigiani quindi come fabbri, falignami, idraulici, elettricisti perché potrebbero venire impegnati in situazioni di calamità piuttosto che studenti o meglio ancora, come diceva lei anche figure più specialistiche come potrebbero essere farmacisti, infermieri assistenti sanitari, medici perché è nostra intenzione essere proprio sul territorio facendo anche delle campagne di prevenzione in collaborazione anche con il Comune e le altre associazioni del territorio delle giornate informative appunto per la prevenzione della salute Lunedì 2 settembre alla pizzeria Angelo 2.0 a Rosciano di Fano si è svolta la cena del gruppo Baskin del Basket Fanum Baskin significa basket inclusivo uno sport per tutti dove maschi e femmine con diversi gradi di abilità giocano insieme e ognuno di loro ha un ruolo fondamentale alla cena erano presenti anche il presidente Gianluca Castellani la figlia Marianna gli allenatori Simone Aleggi e Francesco Droghini nella foto di gruppo vediamo pure il cantante Luca Vagnini il responsabile del ristorante la squadra inizierà a breve gli allenamenti in vista della stagione 2024-2025 e c'è ancora spazio per nuove adesioni per chi ha voglia di mettersi in gioco di vivere uno sport che unisce agonismo divertimento inclusione e amicizia può contattare il numero che vedete in sovrimpressione compie 25 anni il progetto Foresta Nera a Mare Blu che prevede uno scambio ludico-culturale rivolto alle persone diversamente abili sia di Fano sia di Rastat che ogni anno alternando la sede vengono ospitate in Italia o in Germania quest'anno è il turno dei tedeschi che sono stati ricevuti questa mattina alla Mediateca Montanari è un collante che tiene vivo il gemellaggio tra Fano e Rastat il progetto Selva Nera Mare Blu ebbene si festeggiano i 25 anni ed è un momento particolare che è da evidenziare è un momento molto importante c'è stata subito la collaborazione delle associazioni fanesi già la presenza questa mattina dei ragazzi sia di Itaca sia di altre associazioni e testimonia la volontà di poter fare una bella vacanza insieme di collaborare e di trovare momenti di aggregazione avremo altre situazioni già questa sera saremo a cena insieme durante la settimana avremo delle attività insieme tra ragazzi di Fano e ragazzi di Rastat sono dei bellissimi momenti che aiutano tutti a star meglio e a crescere nell'amicizia e nella collaborazione comunque aspetto sociale non basta per tenere vivo un gemellaggio che dovrebbe avere anche effetti economici effetti culturali può involgere in modo particolare le scuole è in programma questo nell'amministrazione comunale? Sicuramente tutto il tema del confronto e dell'incontro di culture diverse diventa estremamente interessante il fatto stesso che i gemellaggi possano promuovere anche dei contatti tra scuole ormai a Fano siamo abituati ad avere degli scambi scolastici che spesso rientrano proprio all'interno del progetto dei gemellaggi Sono qui una settimana 33 persone ospiti dalla nostra città che cosa li farete vedere come li intrattenerete? Sì sono appunto presenti qui 33 persone con disabilità amici di Rastat ma allora oggi diciamo abbiamo la parte ufficiale domani andremo ci spostiamo anche da Fano perché il gemellaggio comprende anche Pergola e quindi domani andremo a Fatterosa a fare un laboratorio di ceramiche mercoledì ci dedichiamo a Fano visita della città mercato mare tempo permettendo giovedì invece andiamo a fare un laboratorio sensoriale venerdì avremo di nuovo una giornata intensissima sul territorio fanese al mattino siamo ospiti da Itaca per una colazione avremo poi un torneo di bocce a San Cristoforo dopo un po' di riposo la sera allarghiamo di nuovo i nostri orizzonti e siamo ospiti a Pesaro all'Aias Associazione Italiana Assistenza Spastici nella festa di quartiere per il settantesimo anniversario dell'Aias nazionale ecco il Lions Club di Fano è stato sempre tramite di questo gemellaggio e ancora oggi è sulla breccia insomma avete un rapporto particolare con la città tedesca d'altro canto Lions è solidarietà è amicizia è aiuto al prossimo quindi chi meglio del Lions Club può sostenere questo tipo di progetto e con il progetto Foresta Nera Mare Blu chiudiamo qui il nostro telegiornale l'appuntamento torna domani mattina con Massimo Foghetti con la lettura dei quotidiani tra poco invece dopo le previsioni del tempo trasmetteremo uno speciale dedicato alle attività di Sportfly grazie per essere stati con noi e rimanete sul canale 19 di Fano TV Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti